Questa è la situazione dall'altro lato della strada, è veramente una vergogna, come dire le reti là ci sono Michele vieni ti faccio vedere le pietre, eh ho visto ho visto, è uno scandalo, cosa ne pensi Nicola? È uno scandalo, sono due pietre veramente, e la costiera sta in ginocchio con queste due pietre Siamo senza parole, gli unici che non passano sono gli studenti, i pendolari, le fasce libri, i mezzi pubblici che non ci sono Siamo alle solite, basta